A 12 km proprio dal confine con la Slovenia, dove c'è proprio la nostra cantina, la cantina Prudori Pormons, dove vicino a questa cantina c'è un vigneto, un vigneto particolare di due ettari, che è la più bella collezione varietale di viti di tutto il mondo, impiantate nel 1983. Sono 6.000 piante di 830 varietà di viti diversi provenienti da tutto il mondo. Da questa vendemia, dall'uva, di tutte queste uve nasce appunto il vino della pace, il vino della pace che è esposto, che dal 1985 in confezioni da tre bottiglie viene inviato ai capi di Stato del mondo in segno di pace un messaggio italiano. Il vino con tutto il vino del mondo è, le etichette sono disegnate ogni anno da tre artisti di fama internazionale. Hanno incominciato Dubai, Music, Pomodoro, Iocono, Rauschenberg, Cornell, Nagausawa. È la più bella collezione anche delle etichette, che è visibile qui nello stand a tutto il mondo. E questo vino appunto è un po' il simbolo italiano di tutti i produttori italiani e viene invitato. Lì si può vedere, oltre che la collezione, anche la galleria delle voti. Sono 34 voti da 100 ettari, tutte quante dipinte e scolpite dai più grandi artisti del mondo. È una vera opera d'arte, è una galleria d'arte insolita attraverso la vigna, il vino della pace e le voti dipinte. Grazie. 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 Grazie a tutti.